I carabinieri della stazione di Colli al Metauro hanno arrestato per detenzione illegale di armi clandestine un operaio albanese di 43 anni, residente da quasi 20 anni nella frazione di Calcinelli di Colli al Metauro. Alle 6 di sabato pomeriggio scorso è arrivata una chiamata al 112 dal proprietario di un appartamento di un condominio della frazione Calcinelli che ha riferito di aver notato una pistola a tamburo tipo revolver con matricola solo parzialmente leggibile ma perfettamente funzionante all'interno di una cassetta postale del palazzo con lo sportellino aperto. Immediato così l'intervento dei militari che effettivamente hanno trovato l'arma carica con 5 proiettili calibro 38 e con il cane armato. Bastava quindi premere il grilletto per far partire un colpo. I limitari quindi dopo aver messo in sicurezza l'arma hanno iniziato i primi accertamenti. La cassetta postale è subito risultata abbinata ad un condomino non abitante da tempo nel palazzo quindi non vi era nessuna correlazione tra l'arma e la cassetta postale. Nel pomeriggio però i carabinieri erano stati allertati per un diverbio tra cittadini albanesi avvenuto lungo la Flaminia. Uno degli albanesi di professione operaio però guarda caso è residente proprio nello stesso condomino dove era stata rinvenuta la pistola. L'uomo non ha fornito alcun particolare circa l'arma rinvenuta. I militari però hanno voluto andare a fondo alla vicenda e dopo l'interrogatorio è scattata anche una perquisizione domiciliare a casa dell'operaio ed è venuto fuori che nel garage l'uomo aveva un mezzo arsenale. In una cassetta porta utensili hanno trovato un'altra arma sempre a tamburo sempre tipo revolver priva di marca e matricola quindi di fatto da considerarsi clandestina e anche questa perfettamente funzionante insieme all'arma 48 cartucce calibro 22 e una calibro 7.65. Inoltre sono state trovate altre due pistole a gas queste ultime e relativo munizionamento a salve. Materiale però questo di libera vendita. A questo punto però l'operaio vistosi alle strette è crollato. A quel punto i militari capito l'andamento lo hanno subito arrestato. Nella mattinata odierna durante il rito per direttissima c'è stata la convalida dell'arresto. Il cittadino albanese è stato accusato di detenzione abusiva di armi di cui una clandestina, detenzione illegale di munizionamento da arma da fuoco e ricettazione delle armi rinvenute. L'operaio che ha patteggiato è stato quindi condannato complessivamente a un anno e dieci mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa. Inoltre il giudice ha disposto alla distruzione delle armi e delle sue loro munizioni. Ora i carabinieri stanno verificando l'esatta provenienza delle armi e se sono state utilizzate in altri reati.